Arriva anche dall'Abruzzo, per la precisione dell'Aquila, la lunga mano della solidarietà, a mettere a disposizione i piloti esperti, la sua flotta composta da sei aereo mobili, aviazione generale ed ultraleggeri, e numerosi aereo mobili a pilotaggio remoto, droni da utilizzare per il trasporto di personale e materiale sanitario, attività di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini e sorveglianza del territorio, l'aereoclub L'Aquila, presente dal 1958, che si dice pronto a supportare e a collaborare con le amministrazioni locali e regionali, direttamente dalla pista di volo, situata tra i comuni di Fosse e Poggio Picenza, in provincia dell'Aquila, denominata aviosuperficie l'Aquila. La posizione di questa base operativa, dichiara il direttore della scuola, Giovanni Carugno, è molto strategica, in quanto costituisce un collegamento veloce con i diversi aeroporti ed aviosuperfici dislocati nella regione Abruzzo e in tutto il territorio nazionale. Tale struttura privata è da sempre a disposizione della protezione civile e dell'elisoccorso, ha continuato, per facilitare la gestione di interventi di soccorso. Auspicando di poter apportare il proprio contributo in questa situazione di estrema difficoltà, ha concluso l'aereoclub L'Aquila ringrazia ed elogia l'attuale e costante e prolungato lavoro di tutto il personale sanitario, delle forze dell'ordine e dei volontari delle numerose associazioni chiamate in campo.